Il mondo intorno a te, parla, ascoltalo, fallo con gli appariti acustici di Acoustical. Sono veri e propri microcomputer multifunzionali applicati all'orecchio. Per informazioni 379 16 65 428. A seguito dell'attenuarsi della pandemia da Covid-19 sono riprese a pieno regime le manifestazioni sportive anche sul nostro territorio. Impegni che da alcune settimane coinvolgono assiduamente anche la Rio Giudo Valle Camonica. La società preseduta da Flavio Testa lo scorso fine settimana è stata impegnata da Piano Gentile nel Milanese in occasione del mini trofeo Mon Club, disputato presso la palestra comunale intitolata a Marco Arrigoni. Numerosi tesserati coinvolti, esordio positivo a metà per Brian Sanchez, classificatosi al terzo posto in virtù di un successo e 3KO. Debuto amaro invece per Ivan Bella, uscito sconfitto da tutti e quattro i match disputati. Buone notizie invece per due piccoli ucraini da poco entrati a far parte della squadra Rio di Stintisi in virtù delle loro prestazioni. Ottimo riscontro anche per Davide Bazzana, autore di tre vittorie e perciò classificatosi al primo posto. Bene anche i fratelli Jotu, Florin e Sebastian capaci di trionfare rispettivamente in tre e due incontri a testa. Ora sguardo al weekend in corso in programma alla prova regionale CSI in quel di Ciserano nella Bergamasca.